Nell'isola sono in arrivo le prime dosi di vaccini anti-influenzali e dalla prossima settimana partirà la distribuzione nelle strutture sanitarie e ai medici che ne faranno richiesta ai servizi di igiene pubblica e ai servizi farmaceutici territoriali dell'ATS. La campagna, lo rende noto all'assessore della sanità Mario Niedu, si articolerà in due fasi. Si parte con i grandi anziani, gli ospiti e il personale delle RSA, i pazienti a elevata fragilità e gli immunodepressi. Tutte le persone che riceveranno la terza dose del vaccino anti-covid, il cosiddetto booster, potranno richiedere in contemporanea anche la somministrazione del vaccino anti-influenzale. Si punta così a sfruttare al massimo una opportunità che in questa fase coinvolge lo stesso target di popolazione per le due vaccinazioni e che consentirà di massimizzare la protezione sulle categorie più a rischio. Nel dettaglio gli aspetti organizzativi e le modalità operative per le vaccinazioni anti-influenzali saranno declinate e rese note dalle stesse aziende sanitarie. La seconda fase della campagna, con l'arrivo del vaccino anti-influenzale quadrivalente split, partirà a novembre e coinvolgerà la restante popolazione. Complessivamente in Sardegna sono attese 450 mila dosi di vaccino anti-influenzale. Nel 2020 la Sardegna ha raggiunto la copertura del 61% degli ultra 65 anni contro il 49% dell'anno precedente, mentre nella popolazione generale la copertura raggiunta è stata del 23% in linea col dato nazionale contro il 15% del 2019.